Avvocata Carpani, quali sono le strategie che un consulente oggi consiglia ai propri clienti per performare meglio sul mercato e rispondere alle sfide che oggi la società pone? Allora, per quanto possa sembrare ovvio oggi, la sfida o meglio il settore nel quale gli investimenti tendono a concentrarsi raggiungendo delle percentuali molto significative sono quelle del digital, del mondo del digital. Allora, la sfida che secondo me ogni azienda deve porsi e i professionisti che assistono all'azienda devono porsi a si stessi è quella di riuscire a comunicare rimanendo però nell'ambito della legalità perché è molto frequente assistere a forme di comunicazione digitale le più varie, dall'RTM al famosissimo influencer marketing che in realtà si trasformano in forme di pubblicità. Talvolta, diciamo, occulta nel senso che non riconoscibile come tale e altre volte invece idonea a violare diritti di terzi dai diritti alla personalità, al nome, quindi attraverso l'utilizzo di immagini o di segni distintivi in maniera impropria. Quindi, volendo sintetizzare, sì al digitale perché è inutile pensare che si possa tornare indietro ma con molta attenzione e con l'assistenza adeguata di professionisti adeguati. Grazie, avvocata.